Ciao, un saluto e un buon sabato dal vostro Quiri, dal calcio secondo Quiri, siamo arrivati ridendo e scherzando alla dodicesima giornata del campionato di Serie A, quindi siamo quasi a un terzo del cammino stagionale della Serie A e siamo arrivati come al solito ai pronostici di Quiri. L'obiettivo dichiarato è sempre il 6 su 10, però io spero sempre di fare meglio, soprattutto spero di fare meglio la settimana scorsa, perché la settimana scorsa sono stato veramente pietoso, ho fatto un 4 su 10 che non mi è piaciuto per niente, quindi sempre 6 su 10 come risultato minimo, ma si guarda anche al 7 su 10, addirittura all'8 su 10, chissà, vedremo. Quindi dodicesima giornata, pronostici secondo Quiri, sigla! Il primo pronostico di oggi, della dodicesima giornata, è Torino-Cagliari, all'Olimpico si sfidano in Granata con i Sardi, vedo avanti il Torino di Mialovic in questa partita, credo che i Granata possano vincere. Torino-Cagliari 1! Il secondo pronostico che Quiri tenterà di indovinare è quello tra Napoli e Lazio, il Napoli soffre un po' di serenità offensiva senza il bomber Milik e la Lazio invece sta andando abbastanza bene in campionato. Penso che da questo match, che poi è il big match della dodicesima giornata, possa uscire un pareggio. Napoli-Lazio-X! In terra abruzzese si affrontano Pescara ed Empoli, ho visto un buon Pescara a San Siro contro il Milan, si è dato veramente da fare, ha sfiorato anche il pareggio contro i Rossoneri e credo quindi che la squadra di Oddo possa fare bene, possa addirittura vincere contro l'Empoli. Pescara-Empoli 1! I campioni d'Italia della Juventus vanno a Chievo ad affrontare i Veneti di Maran, la Juventus sta andando fortissimo in campionato, ha vinto tutte le partite e ne ha perse solo due, tutte e due tra l'altro a San Siro contro Inter e Milan, penso che possa avere un turno di riposo e possa fermarsi in questo match. Per cui vedo un pareggio. Chievo-Juventus-X! Marassi è teatro della sfida tra Genua e Udinese, la cura di Del Neri funziona per i friulani che continuano a vincere, mentre il Genua viene dalla batosta di Bergamo 0-3 con l'Atalanta. Però credo che queste due squadre possano dare vita a un match abbastanza equilibrato e vedo un X in questo match. Genua-Udinese-X! Il prossimo pronostico che Quiri tenta di indovinare è Palermo-Milan. Il Milan, a parte l'incidente di percorso di Marassi, sta sempre vincendo, mentre il Palermo è in netta crisi con De Zerbi che si gioca la panchina in questa partita e credo che purtroppo per lui possa essere veramente l'ultimo atto della sua avventura in terra siciliana. Vedo favorito il Milan. Palermo-Milan 2-0! Al Mappei Stadium si sfidano Sassuolo e Atalanta. Il Sassuolo non è in un gran momento di forma, non sta brillando la squadra di Francesco ed è riduce anche dalla fatica di Europa League, mentre l'Atalanta del Gaspe di Gasperini sta andando a mille. Credo che l'Atalanta possa vincere. Sassuolo-Atalanta 2-0! La Fiorentina ospita la Sampdoria. La Sampdoria è riduce dalla vittoria contro l'Inter, mentre la Fiorentina viene dall'importante vittoria esterna a Bologna. Vedo favoriti in questo match i padroni di casa della Viola. Fiorentina-Sampdoria 1-0! L'Inter prova a risollevarsi dalla crisi ospitando e tentando di battere il Crotone. In panchina c'è Vecchi in attesa che venga comunicato il nome del nuovo allenatore interista. Nonostante la crisi dell'Inter, nonostante il Crotone venga dalla prima storica vittoria in Serie A, penso che nei Razzurri, vinceranno questa partita. Inter-Crotone 1-0! Il decimo e ultimo match su cui Quiri si avventurerà nel pronostic è quello tra Roma e Bologna, differenza tecnica e di classifica notevole tra le due squadre è una di quelle partite in cui non mi fermerò più di tanto. Risultato, credo, scontato. Roma-Bologna 1-0! Bene amici e amiche del calcio secondo Quiri, allora per i pronostici della dodicesima giornata in Serie A è tutto. Vedremo come andrò, ribadisco, il risultato minimo che voglio ottenere è il 6 su 10, ma spero in un 7 su 10, in un fantasmagorico 8 su 10 che sarebbe, come detto, il massimo. Vedremo come andrò con la dodicesima giornata. Io vi do appuntamento con la telecronaca, dovrei fare la telecronaca questa settimana sul calcio secondo Quiri, quindi seguitela e vi do appuntamento con il promosso o bocciato della dodicesima giornata all'inizio della prossima settimana. A presto e un buon sabato sera! Ciao!